Sono ancora vivo, in giro, felice e contento, sono proprio libero come non lo sono mai stato fino ad ora Cioè posso proprio volare, saltare, che cosa? Cioè un Eevee buggato nel vaso Praticamente un Eevee Guarda che si buggano proprio ovunque Si ha praticamente la testa così nel vaso ed è dritto Cioè è dritto, adesso i consolini non lo vedranno però non... Cioè se vuoi farlo vedere tu così ti aspetto qua Fantastico, fantastico Fallo vedere i consolini Aspetta, ok, ok Vai, vai, vai Non stai guardando? No, stai guardando un muro Ti ho visto che stavi controllando Se non stai ferma non vado Dai, su, ferma, fai vedere lì i miei consolini, vai Ok, ok, ok Sto guardando, Ferre, smettila Vai Non vedi che c'è il muro e basta, vai Allora, tu mi vuoi trollare, ok Ma ho da cosa da dirti Sono io quel Libi, Ferre Ma da fero Dai, non è possibile Non è... Oh mio Dio E ragazzi, come va? Io sono Ferre E io sono Stef E oggi siamo qui con un nuovo Gesù in questa mappa fantastica Abbiamo trovato l'ufficio di GTA E quindi ovviamente non potevamo non giocarla subito In realtà l'ufficio di GTA ha trovato noi Perché è stata aggiunta da pochissimo C'è comparsa in faccia su stima Abbiamo fatto Oh mio Dio Troviamola Io mentre facevamo l'intro ho visto il tuo schermo E avevi la tua skin Ok Quindi o l'hai cambiata da poco Oppure sei con la tua skin nascosta da qualche parte Ok, sì, mi sembra giusto Un buon ragionamento Un ragionamento logico che potresti portare avanti e vedere se funziona Ho perso 20 di vita nel mentre Non ti dico con chi O con che cosa Però ho perso 20 di vita Allora, sicuramente tu, dato che abbiamo appena iniziato il video Ok Vuoi fare la birbantella che mi prendi in giro Quindi sì No, io veramente sto giocando in modo serio Perché c'è da dire una cosa L'ufficio non è tutto qua No Però non lo voglio fare È troppo presto, Fere Dove sei, Fere? Voglio un indizio Di fronte a te Di fronte a te Sei zitto Perché sei lui? Stai correndo? Fere, ho paura di sparare Non so chi sta indicando Non so chi sta indicando Ho paura di sparare Ok, sei tu allora Perché mi hai cambiata la skin? Dove vuoi scappare, bellissima? E lì si vuoi a Wonderland E poi cos'altro vuoi provare a fare? Perché mi nervano sempre incastrare? No, 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 no Fere Che sei successo? Ti ho perso? Esatto, era quello il mio obiettivo Mi hanno incastrato Ottimo Non è vero, vieni qua Fuori, fuori, fuori Dai Vai Fere, puoi andare, puoi andare Mi sono nascosto Mi sono nascosto Allora, io per prima cosa controllo i posti segreti Ma no, ma te l'ho anche detto Non lo farei mai Fere No, sì che l'hai fatto Ma perché pensi a una cosa del genere? Perché l'hai fatto L'hai fatto e me lo sento E allora come faccio a sapere che sei nel magazzino E che stai controllando tra i vari scaffali Fere? Perché sei qui Ma dove esattamente però? Dove ti sei nascosto? Non saprei Fere Dove ti sei nascosto? Allora Ah, e ti arrendi quegli scaffali? Controlli bene l'ufficio? Aspetta Che poi ho azzeccato subito il magazzino giusto Guarda bene sotto quella scrivania Fere? Ho azzeccato il magazzino giusto? Contro E vedi, c'è qualcosa C'è una macchiolina di sporco Prova a pulire un attimo Dai, non c'è nulla Non è vero Non è vero Allora, dove sei? Vediamo dove sei Non saprei Ci sei So che sei in questa zona Sì, è indovinato Ci sono ma non ci sono Ok Perché sono in alto No, non puoi andare in alto Non si può salire sugli scaffali Sì E se ti dicessi che c'è un macchinario nascosto Che ti fa salire sopra? Dai, non è vero Sei un bugiardo Mi sta imbrogliando Vediamo Vediamo E poi io non vedo nessuno sugli scaffali Io li sto guardando E ma scusa Se io non sono lì sopra Come faccio a vedere tutto il tempo dove ti muovi? Perché magari ci sono delle telecamere e mi stai spiando Hai trovato delle telecamere? Bella teoria Prova a tornare all'ufficio Prova a tornare all'ufficio Che così magari mi vedi Non è vero Guarda Esci fuori Esci fuori Dai No, devi uscire Trattami bene Ok Devi uscire Mi tratti bene? Sì Promesso? Sì Ok, eccomi Beh, non puoi fare una cosa del genere Io capisco i nascondiglie Ma sotto terra dove non ti vedi impossibile Allora Tu hai zeccato subito il magazzino Fammi spiegare Fammi spiegare Ok Perché voglio giustificare le mie azioni malvagie No, non si possono giustificare Sono andato lì Ok Volevo andare sotto la scrivania Ok Quando ho fatto control Sono diventato invisibile Ho fatto Eh vabbè dai Me lo stai regalando Gioco Non posso non utilizzarlo Non è giusto Subito dopo Mi entri lì E ti posso trollare per tre minuti Secondo te Steph non lo fa? Scusa Vorresti dire Che Steph ti rinuncia a trollare? Ovviamente no Esatto Non dovevi farlo Fere Fere Dimmi Sei in un magazzino vero? No Non hai resistito neanche tu Allora sono in una parte dell'ufficio molto bella e luminosa Ok Io sono già andata a controllare i magazzini Ok Non so perché penso che sei qui dietro No Cioè ero? No vedi Perché io non sono lì Ti ho detto che sono in una parte dell'ufficio bella e luminosa Ah ok In una parte dove si può vedere il televisore Dove si possono vedere tante cose Allora posso provare a indovinare la tua skin? Sì Il vicino di Hello Neighbor per caso Dietro dei pallet lì in fondo Stai non dirmi che mi vedo Ma no Fammi vedere avvicinati che voglio vedere il tuo schermo Cioè come facci a vedere? Vedi questo rosettino attraverso i pallet Vicino perché mi tradisci così? Io ho detto è un nascondiglio perfetto perché ho pensato Quando entri Non è che vedi lì in fondo Capito? Invece questi pallet Cadono Quindi se fossero rimasti dritti un po' mi avrebbero coperto Ma li vedi che i primi sono cascati Non l'avrei trovato a priori Allora scegli Spera non fare la disperata Non renderti ridicola Non c'è bisogno Ma Spera dove sei finita? Stai Sto scappando Fai pena Ho provato a uscire e cambiare Perché sono capitata a sfortuna nel magazzino più piccolo Cioè era minuscolo sto accidenti di magazzino Sì ma Quindi non c'era neanche un possibile nascondiglio Ovviamente ti ho detto che stavo entrando ma sei rimasto fermo ad aspettarti Fere Era ovvio Sono un NPC normalissimo che va in giro per la casa Lo stai combinando Ed è tanto tanto felice ok? Io so già che ha scelto un altro magazzino No Lo so Fere non ti mentirei mai Lo so Non ti mentirei mai Allora io per sicurezza guardo prima i magazzini Poi guardo la casa Prometto che non sono in nessun magazzino Facciamo così e andiamo sul sicuro Perché non ti fidi di Stef? Perché sei un imbroglione bugiardo Non è vero Ti sei arresa con i magazzini Fere? No li ho controllati tutti e ho finito Ok Non è che mi sono arresa Perfetto Li ho controllati in modo molto scrupoloso Ok meno male hai fatto bene Hai fatto bene Allora dove mai sarai? Bisogna sempre controllarli i magazzini Anche secondo me è stata la scelta migliore Sei in un magazzino invece Sei andato ad essere un magazzino Ah no Sei andato ad essere un magazzino Come hai fatto a capirlo Fere? Perché mi sta imbrogliando Allora toglietevi accidenti che mi bloccano Sembra che sia dalla tua parte Guarda Ti stai Dov'eri? No Io sparo per sicurezza sparo E sei morto Fere sono vivo Ma come mi sei bloccato lo schermo? Allora Io pensavo fossi morto Non so bene come ma sono ancora vivo Ho quattro di vita Ma come? Quattro tondi tondi Non è giusto Adesso quale sarai? Eh magari non sono più nei magazzini Ti stai muovendo però Ho paura Tu stai camminando Ti ho detto di sì Allora Che cosa stai facendo? Niente Fere Sei questo Scappa 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 Aiuto Dove sei? Io non vedo nessuno che scappa Mi sei passata vicino Ho avuto un attimo di paura E quindi mi ero nascosto in un angolino Allora 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 Non lo so Solo dieci di vita Un minuto e quaranta E solo dieci di vita? Vi devi dare l'ultimo indizio Dai Dieci di vita All'ultimo indizio Stai perdendo tempo Da tre minuti Perché sono in un magazzino Da due ore Che faccio finta Di essere in giro Ma dai Sto camminando intorno Dentro un magazzino Ma non valgono i magazzini Però Nessuno l'ha scritto Io non Sì che non Doveva essere l'ufficio Non i magazzini di GTA Altrimenti qui inizio il video Dicevamo i magazzini di GTA Capito? Non l'ufficio Io non ho nessun regolamento Che dice vietati i magazzini Se un barone basta No Presti chiamarti Steffi il barone Non dire quella parola Steffi il magnifico Non dire quella parola Sì sì Te lo meriteresti Ma sta arrivando? I magazzini non valgono L'hai detto tu Eh capito Adesso si mette a dire questo Ma vede L'hai detto tu Allora Io rispetto le regole Ci tengo alle regole Io adesso ti tiro qualcosa in testa E finisco il video da sola E vinco Ok? Ok? Io ci tengo a rispettare i regolamenti Che imponiamo Quindi adesso Hashtag Steffi il barone Non provarci Sì Hashtag Steffi il barone Ma il barone perché sono un barone Nella vita reale con una super villa No un barone perché sei un imbroglione Non hai niente di magnifico Allora 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 Devo capire che skin sei Non ti interessa Non so perché Voglio il colore Dai il colore non è un bel inizio No non si può Dai Fede Ti ho lasciato due minuti extra Perché ti incastravi sempre Queste consiglioni non lo dici No allora Mi incastravano i Dammi il colore Non perdere tempo Allora Ho del bianco Più o meno Hai del bianco Ok Ok Hai del bianco Hai del bianco E ti sei E ti sei? Che dici? Ti ho perso altri dieci di vita Ah ok Ottimo Ottimo Quindi allo neighbor Non puoi Ma non è che sei Silente? No comunque anche cambiato skin In effetti non ho più niente di bianco Ma E vabbè dai Cioè ero lì Lo cambiato Perché era buggata l'altra Poi sono io che baro eh E vabbè mi sono dimenticata di visarti Adesso qualcosa di Boh Non so che colore sono Sincere Di rosso Di rosso si può dire Dai sì Ok Rosso Rosso Harry Potter Rosso Andiamo tutto a rally Adesso Harry Potter Andiamo tutti a rally Harry Potter E vediamo se Steph ce la fa Ti sto guardando negli occhi Vediamo Vediamo Ti sto guardando negli occhi Ho perso dieci di vita Harry Potter Allora Non sei quella Assassin's Creed Perché l'ho già sparato Che fai da quelle parti Feren La tv non funziona Mi spiace Se ti vuoi guardare qualche programma televisivo Non funziona È inutile che fai simpaticone Hai ragione Hai ragione No Aia Feren Non sei tu Che male Ma perché mi hai sparato Non sei tu Ora mi è uscito un sacco di sangue Feren Sei molto cattiva Sei molto molto cattiva Ah Lo sapevo Era Era il posto più probabile Dove potessi vedere Quello che stava succedendo Come hai fatto a beccarmi Non lo so Non lo so neanch'io Però ti voglio chiedere una cosa Cos'è successo Non sei morto Non hai finito il round No Dove sei andato Cosa hai fatto Cosa succede Allora perché devi capire Allora ti spiego cosa succede Nel mio computer Spiegaci anche se a me E ai consolini non interessa Io ogni volta Ogni volta che sparo Più proiettili di fila Mi si blocca Scatta Sì mi fa uno scatto E mi si blocca tutto Ok Quindi io poi Quando ho di nuovo La visione del gioco Non vedo più a te Capito Quindi non capisco Cos'è successo Allora io avevo l'abilità Per diventare un prop Sono diventato un prop E sono scappato Vedi e io non ho visto nulla Non ho visto nulla In tutto questo Mi spiace Mi spiace Sono molto triste per te Però sono ancora vivo In giro Felice E contento Sono proprio libero Come non lo sono mai stato Fino ad ora Cioè posso proprio Volare Saltare Che cosa? Cioè un ivi Buggato nel vaso Praticamente un ivi Guarda che si buggano Proprio ovunque Si ha praticamente la testa Così nel vaso Ed è dritto Cioè è dritto Adesso i consolini Non lo vedranno Però non Cioè se vuoi farlo vedere Tu così Ti aspetto qua Fantastico Fallo vedere i consolini Aspetta Ok ok Vai Non stai guardando? No Bene Sto guardando un muro Ho visto che stavi controllando Se non stai ferma Non vado Dai su ferma Fai vedere lì Vi i consolini Vai Ok ok Sto guardando Stai guardando Stai guardando Non vedi che c'è il muro E basta Vai Allora Tu mi vuoi trollare Ok Ma ho una cosa da dirti Sono io quell'ivi Fere Ma davvero Dai non è possibile Non è possibile Come hai fatto a metterti A metterti così Di testa tritta Ho avuto un po' di problemi Direi che ci siamo fermati così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto E' davvero bella questa mappa E' fatta super super bene Comunque ho il dubbio Di davvero di non aver fatto vedere un garage Quindi un attimino Li ricontrollo tutti Per vedere se li ho mostrati Esatto esatto Sono tre o quattro Fere? Tre Allora sì Allora sì Sono praticamente piccolo medio grande Cioè quello con la scrivania è tutto Questo qua quello minuscolo E quello medio Quindi Sì sì Li avete visti tutti Sono strabelli Mi sa che c'è pure un garage da qualche parte Però forse quelli ascensori Che non funzionano No? No? Ricordo male No sono quelli Sono quelli Allora avete visto tutta la mappa E' fatta davvero bene E' super nuova Valutiamo l'idea E' infatti sondaggino e commenti Magari di fare un bel propante Perché secondo me ci sta bene Mi sono incagliato mentre dicevo propante Non so perché ti incagli Secondo me ci sta davvero davvero bene In questa mappa Quindi potrebbe essere carino Quindi fatecelo sapere Perché nel caso con Espy e Luca Lo facciamo E ci divertiamo un sacco In ogni caso ci fermiamo così Speriamo che il video vi sia piaciuto E ci vediamo domani E' la prima volta che vi vedete il nostro video Potete considerarli da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 ciao